Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV38 che si occupa delle principali attività legate al Consiglio regionale della Toscana. Nell'ultima seduta l'aula di Palazzo del Pegaso ha osservato un minuto di silenzio per omaggiare le 140 vittime della tragedia del Moby Prince nel porto di Livorno a 33 anni di distanza. Un minuto di silenzio per ricordare le vittime sul lavoro sul lago di Suviana e l'anniversario della tragedia del Moby Prince che 33 anni fa, il 10 aprile del 1991, nella rada del porto di Livorno, costò la vita a 140 persone. È quanto osservato dal Consiglio regionale in apertura dell'ultima seduta dell'Assemblea legislativa toscana, chiedendo verità e giustizia per le vittime. Bisogna continuare a chiedere verità e giustizia per le 140 vittime. È incredibile come in un paese civile come il nostro non si sia riuscito a dare ancora una risposta alle famiglie delle donne, degli uomini morti nel più grande disastro della marineria commerciale italiana. Da anni lo chiediamo a gran voce. A volte si vedono dei passi in avanti, poi si ferma bene la commissione che è ripartita, ma le famiglie hanno bisogno di risposte concrete. L'armadio della memoria che noi abbiamo portato avanti e che continuiamo a far crescere serve a non dimenticare. Serve a dire che la Toscana non si volta dall'altra parte. Questo vale per quanto accaduto a Livorno, vale per quanto accaduto a Viareggio, dove le prime sentenze sono arrivate, vale per quello che è accaduto per la costa Concordia. Credo che noi abbiamo la responsabilità oggi di esserci, di essere lì, di essere al fianco delle famiglie e delle vittime che ancora piangono i loro cari dopo 33 anni a cui non hanno avuto mai verità e giustizia che meritano. La Regione Toscana, il Consiglio regionale, le Toscane e i Toscani tutti devono continuare a fare quello che hanno fatto sino ad oggi, cioè da quella notte sino a queste ore essere al fianco dei familiari e delle vittime, sostenere tutte le iniziative. In Consiglio regionale noi abbiamo creato anche un luogo che si chiama l'Armadio della Memoria per dare casa, struttura e anche la possibilità di raccogliere tutta la documentazione, non soltanto delle associazioni della strage del Movi Prinze, ma della strage di Viareggio, come della vicenda della Costa Concordia. È un luogo della memoria perché la memoria è fondamentale per alimentare il ricordo, ma soprattutto per dare forza all'impegno che ancora deve essere profuso, al fianco ovviamente dei familiari e delle vittime e a sostegno della Commissione d'inchiesta parlamentare. È necessario mantenere alta l'attenzione su questa tragedia, dopo 33 anni ancora a buio. Per la prima volta la Camera dei Deputati, su iniziativa del Presidente Lorenzo Fontana, ci sarà la commemorazione delle vittime. Qui in Consiglio regionale la vicinanza alle famiglie delle vittime è stata manifestata nuovamente, però con grande senso di rammarico, perché questa vicenda ancora non ha la verità. E questo è un dolore che si associa a quello delle vittime e di estrema vicinanza che noi esprimiamo alle famiglie. 33 anni dopo, famiglie, 140 famiglie, ancora attendono una risposta, la verità e la giustizia, su quello che è stato uno dei più grandi drammi che abbiamo vissuto negli scorsi decenni, sicuramente uno dei più grandi di tutta la Toscana. Io credo che questa sia una ferita grave non soltanto per Livorno, per la Toscana, ma per tutta l'Italia, perché l'attesa estenuante di questa verità e di questa giustizia che ancora oggi si negano, fondamentalmente crea grande sfiducia anche in quelle istituzioni che dovrebbero darla a queste famiglie, per la memoria di queste persone. Ancora oggi saremo a Livorno a dire mai più un dramma del genere e soprattutto verità e giustizia, di nuovo, perché è l'unica cosa che può allenire, anche se solo minimamente, il dolore di questo dramma, che diventa infinito e che ogni giorno che passa aggiunge soltanto attesa a quello che è la conclusione che invece tutti vorrebbero avere per far trovare pace e anche riposo alla memoria di queste persone che hanno perso la vita. Attività di Palazzo del Pegaso che sono proseguite in aula con l'ok alla prima variazione di bilancio 2024-2026 della regione toscana. Non sono mancate però le polemiche da parte delle opposizioni. Vediamo. È stata approvata maggioranza dall'Aula di Palazzo del Pegaso la prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026 della regione che recepisce gli emendamenti proposti dal presidente della Giunta, Toscana Eugenio Ogiani. La manovra prevede uno stanziamento di oltre 21 milioni per il 2024, di un milione per il 2025 di 189 mila euro per il 2026. Con questa variazione bilancio chiudiamo definitivamente quello che è il bilancio 2023 sulla sanità. Siamo riusciti in questo bilancio a contenere quello che erano le spinte per una riduzione di servizi e per tagli. E invece ecco che proprio andando a trarre le somme, voi sapete che il bilancio della sanità deve essere chiuso per il 30 aprile come ogni anno, noi riusciamo a far quadrare i conti e a dare alla sanità toscana invariata capacità di servizi, anzi espansione, in tutta una serie anche di interventi che riducono le liste d'attesa, che potenziano i pronti soccorsi e contemporaneamente a far quadrare quello che è l'equilibrio economico-finanziario della regione. All'ultimo momento ho avuto la possibilità anche di disporre di poco meno di 5 milioni di euro per far fronte ad alcune esigenze e quindi ripercorreremo quest'anno la strada di un contributo. Si tratta di mezzo milione, 500 mila euro per le donne che sia per tumore o per altre cure molto difficili hanno la necessità della parrucca perché la loro calvizia per le cure che intraprendono non debba essere così evidente. In secondo luogo 2 milioni e mezzo per le indennità premiali per i pronti soccorsi che servono per motivare i medici a stare nei pronti soccorsi magari negli ospedali diciamo di aree più esterne della Toscana diffusa. E poi quasi 800 mila euro per coprire tutte le domande delle famiglie che si trovano a avere situazioni di disabilità e che avevano presentato la domanda che non eravamo riusciti ad evadere nel contesto del 2023. Una variazione di bilancio, quella licenziata dal Consiglio regionale toscano che si muove lungo tre direttrici e persegue tre obiettivi principali. Da una parte l'obiettivo primario è sicuramente quello di contribuire al riequilibrio economico del servizio sanitario regionale. Una misura importante che viene affrontata soprattutto attraverso la destinazione di una quota importante dell'addizionale regionale dell'IRPEF proprio al tema della sanità e del risarimento dei bilanci della sanità della Toscana a cui si vanno ad aggiungere anche altre risorse come ad esempio quelle derivanti dagli accantonamenti che la regione toscana ha posto in essere per affrontare le cosiddette lettere di patronage a favore di cassa depositi e prestiti che invece divengono esigibili già in questa fase consentendo quindi un ulteriore stanziamento di quasi 38 milioni di euro. Ma ci sono altre due finalità importanti dietro questa manovra finanziaria. Da una parte la necessità che ha la regione toscana come tutte le regioni italiane di apportare il proprio contributo alla finanza pubblica secondo le richieste dello Stato e dall'altra la necessità di far fronte ad alcune spese, spese che vanno a ristoro dei cittadini ma anche di alcune realtà locali. Per quanto riguarda la posizione dei cittadini c'è un contributo importante che viene dato ad Autolinea Toscana e SPA proprio per l'erogazione dei servizi a tariffa agevolata. La regione toscana concorre con una cifra che si avvicina ai 4 milioni di euro proprio per integrare la disponibilità di queste risorse. Ma è una variazione di bilancio che in realtà ripropone un tema ormai sollevato da tempo dalle opposizioni. Una totale assenza di programmazione, uno sforzo finanziario come quello che è stato richiesto ai cittadini toscani con l'aumento dell'IRPEF che doveva servire a ricucire quello che era stato lo squilibrio del bilancio della sanità. In realtà oggi assistiamo nuovamente ad un bilancio che ci viene portato in aula in fretta e furia con degli emendamenti che ci sono stati illustrati stamattina e che di fatto però nulla sposta rispetto al tema centrale che è quello della programmazione e della razionalizzazione della spesa sanitaria. Sono stati ancora una volta fatti degli interventi estemporanei, non c'è un filo conduttore sulla programmazione, si illustra una sorta di razionalizzazione della spesa sanitaria ma senza saperne esattamente il contenuto. In poche parole, quello sforzo che era stato chiesto ai cittadini toscani con l'aumento dell'IRPEF, oggi non riusciamo francamente a comprendere che tipo di contributo potrà dare alla ristrutturazione del bilancio della sanità. Una variazione bilancio positiva, le modifiche apportate e richieste dal governatore sono tutte più che ragionevoli, a partire da quello che riguarda i nostri forestali, a partire da quello che riguarda l'aiuto ai comuni, a partire da quello che riguarda invece, e la consideriamo due vittorie, i fondi per evadere le richieste di supporto delle famiglie che hanno figli disabili, soprattutto ai affetti d'autismo, e il fatto che ABBA venga per sua direttiva ancora riconosciuta là dove fino ad oggi questo tipo di servizio veniva offerto alle famiglie e ne facevano richiesta. Trovo che sia stato uno sforzo importante da parte del Consiglio regionale ma soprattutto da parte della Giunta e del Governatore che si sono resi conto di quanto fossero necessarie queste risorse che noi non potevamo che sostenere. La Lega vota contro questa prima variazione di bilancio che era stata inizialmente presentata come un mero accertamento dei conti e che invece ha visto ancora una volta arrivare in aula al di là delle dichiarazioni in Commissione di Gianni una serie di emendamenti. Al di là del merito, occorre individuare sicuramente una mancanza di programmazione e a volte una difficoltà di interlocuzione corretta con l'opposizione. Faccio notare per esempio che ci sono 8 milioni per la cultura dei quali avevo chiesto scheda analitica ormai da due sedute di Commissione fa e che ancora praticamente non mi è arrivata. C'è uno storno per quanto riguarda i costi della sanità. Sappiamo che sono state aumentate le tasse dei Toscani addizionali per circa 200 milioni e 10 milioni erano stati destinati all'alluvione. 190 milioni invece erano stati destinati appunto per coprire i buchi della sanità. Di questi 190 milioni abbiamo visto che c'è stato un accertamento di 168 milioni quindi 22 milioni che si potranno spendere in modo differente. Scorrendo il lungo elenco delle sovvenzioni e delle variazioni che ci sono state a me mi sembrano tante marchette politiche, lo dico chiaramente guardando in camera perché guarda caso ci sono tanti soldi che vengono erogati a dei territori che vanno al voto per cui probabilmente è il gioco della politica. non mi piace, non so se lo faremmo anche noi se ci fossimo in maggioranza ad oggi posso soltanto dire che sono contrario a quello che succede fatto da questa maggioranza. Questi dunque i principali argomenti trattati nella puntata odierna della Voce del Consiglio su tutti ovviamente l'ok alla prima variazione di bilancio 2024-2026 della Regione Toscana l'appuntamento con la Voce del Consiglio è per la prossima settimana ovviamente su RTV38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci. Grazie a tutti.